Oggi vi spiego come creare a casa un utile attrezzo per poter fare bene gli esercizi senza sovraccaricare la cervicale e muovendo la parte alta. Voi prendete una coperta, un cuscino, quello proprio che usate per dormire, e un altro cuscino per il tivano. Allora, lo posizionate al centro in modo da poterlo chiudere in questo modo. Quindi da una parte e dall'altra. Ok, questo. Dopodiché prendete un altro cuscino e lo posizionate qua. A questo punto vi sedete qui davanti, poi lo faccio vedere dall'altra parte. Quindi il sedere sta appoggiato per terra. Vi sdraiate sopra, appoggiate per bene. Prendete, afferrate bene qui lateralmente. E poi potete fare questo, uno. Cercando di sentire bene lo scarico della testa. Oppure questo, la parte bassa. Oppure insieme. Quindi prima contraete la parte bassa e poi salite. Vedendolo di qua. Questo è il cuscino. Ok? Appoggiate questo qua sopra. Vi mettete così. E vi sdraiate sopra. Cercate la posizione. Dovete sentire la schiena che va giù e va a toccare. E poi, aiutandovi, andate su. Usate questo attrezzo per iniziare gli addominali con il movimento del torace. E dovete riuscire a sentire che non caricate la cervicale. Quindi, potete anche mettere un altro cuscino qua sotto. Potete spingerlo più sotto così. Potete afferrare più aperto e fare questo. Io preferisco così. Dovete avere la sensazione che la testa si appoggia dietro. Quindi così. Oppure questo. Facendo attenzione a non spingere sulle gambe. Quindi non dovete sentire la tensione qua. Ma semplicemente come se vorreste portare tutto il bacino sopra il cuscino. Oppure insieme.